Quindi era il terminatore? Sembra di sì Appena non toccato Il cavo? No, quando fai il bus Alla fine devi chiudere E quindi non era chiuso e quindi non lo vedeva chiuso Se non è chiuso può succedere che qualche comunicazione non va a buon fine Grandioso Ha letto tutto Sta scritto Ci proviamo a prenderlo il tutto veramente? No, ora proviamo a leggere A002 con ragnetto direi che è ok È in linea Ma vogliamo fare un cut del kernel vino? Eh sì